Riprendere in mano la vertenza ATM è anche in fretta, visto che non si può considerare affatto conclusa, a chiederlo il consigliere regionale Michele Petraroia con una richiesta scritta e inviata a tutti gli organi istituzionali, ai sindacati e ai ministeri del lavoro, degli interni e dei trasporti. Il consigliere torna a sollecitare l'interessamento per i dipendenti della società di trasporti, chiedendo agli organi regionali di accogliere le richieste dei sindacati, fissando al più presto la riunione delle commissioni lavoro e trasporti della regione molise, per proseguire la trattazione della vertenza ATM, vista anche l'imminente chiusura della sessione di bilancio prevista per il 16 gennaio. Questo perché la vicenda non può dirsi conclusa, dopo che la prima audizione del 13 dicembre scorso si è limitata a trattare solo il punto concernente il mancato pagamento delle mensilità pregresse al personale ATM, rinviando le altre questioni attinenti alla rescissione del contratto e la garanzia sulla continuità del servizio a successive sedute delle commissioni consigliari regionali, se seconda e terza. Le organizzazioni sindacali, escluse dal confronto con decisione unilaterale del presidente della commissione trasporti, hanno ripetutamente sollecitato il prosieguo delle audizioni, così come votato in consiglio regionale, inviando anche una serie di note integrative sul contenzioso in essere e alcune soluzioni individuate dalla regione Campania per gestire la crisi del settore. Il rinvio a data da destinarsi della trattazione della vertenza ATM e la mancata convocazione dei sindacati sono una grave violazione istituzionale, conclude Petraroia, che pertanto chiede una nuova attenzione al problema e invita gli organi preposti a fissare una data certa e vicina nel tempo per risolvere una volta per tutte la questione. Intanto i sindacati CISAL, CISL, UGL e Will Trasporti denunciano problemi anche per la SEAC, società che gestisce il trasporto su gomma a campo basso. I dipendenti non hanno ricevuto lo stipendio di dicembre 2017 nonostante gli accordi sottoscritti e a quanto pare, dicono i sindacati, la società non ha intenzione di rispettare gli impegni contrattuali nemmeno nel prossimo futuro.